oh porco ma lo ci ha buttato ne sotto uscivo sta merda ma sto gioco è difficilissimo porco dio è impossibile zio ma scusa ma un tempo ma lì sto morto ma rispondi ma scusa ma scusa ma un tempo non era una cosa tipo futuristica ma è sempre uguale i colori ma almeno cambia c'è uno mi ha buttato le sotto madonna il tokus quanto è forte il tokus è fortissimo by the way no io c'ho sempre l'omino in salsa di salamoglia è tutto storico che mo esce la kill feed siete qualifichi ma t'asci tu madre è una bocchina porco dio c'è un pischello che alla fine del coso prende e ti butta di sotto ancora esistono questi ancora esistono mi voglio fare lo spadone più 7 5 sul pareggio e tra sta moglie sti 5 sul pareggio signori e tra sta moglie 5 sul pareggio 5 sul pareggio ragazzi è una cassa abnorme cioè uno ci ride e ci scherza guarda un altro pareggio dei 8 mamma mia pippo porco dio ma perchè perchè devi farli trovare ma perchè vanno tutti i nervi ognuno fa quel che vuole porco dio allora ti venga a spararsi sempre nei limiti della legge la legge sempre con noi la legge signori pazzesco la legge incredibile ma che cos'è ciruzzo il napoletano ma che cazzo sto a vedere ma che ciruzzo il napoletano ho sentito odore di rolex ma che è sta fiesta ma che è l'invito dei matti fede nel 2021 su gta 5 ma che sto tenet gaga 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 e la palla un apolo mamma mia che è diretto che mi sono tirato fuori dal cappello si no perchè perchè dovemo uscire e si uomo e si che fa gol di testa fazzo stacce ecco a voi ermonte del fazzo er pischello che si era sbagliato ad un accento bit ha scritto ermonte del fazzone invece che ermonte del fazzone debbo fefe du benvenuti ragazzi benvenuti lupio grazie per te enrico carol sfocaccino bentornati fabrizione mitibari superandri bentornati stalla ragazzi bentornati fammene uno spammettino linone grazie no però c'è una marea di bolle andiamo dalla legge un attimino dov'è la legge dov'è la mia legge perchè se io mi smuto non vedo subito la legge perchè non sento la legge ho non mandare video smettete bestemmia cioè il video il libro la legge è sempre più un'opera d'arte guarda che bella la legge guarda che bella oh ma chi è sto mostro che fa sti cosi ma Bongo è mostruoso a fa sti photoshop ha fatto pure quello con la legge Elisa clamorosa Giamo ragazzi ma non prende le giocate ma io che porco dio devo fare più porco ma la cosa che mi fa ridi è che l'ha presa fino a mo non mi si muove più il mouse ma che hai fatto non mi si muove più il mouse non mi si muove più il mouse mi ha messo 5 euro e basta no ragazzi no giamo ma meno male che non hai messo 100 per sbaglio giusto prendo nel frio tutti 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 no 20 tanti devi addobbata trotsky se vuoi addobbato davanti c'era davanti c'era davanti vado massacralo sì ma sono ultimi anna trotsky e il tortellino doma sono ventitresimo e 21 ma che cazzo dici lista è massacra che si no si sono testo e ori addobbati inizio a ragazzo mi hanno fatto perdere il coso però lo faccio arrivare ultimo bro ma così c'è capelli neri all'incirca sali sali un anno abbiamo solo una quello meglio meglio da cagnotto di prima rega questa ancora meglio oppela la vola 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 come no mamma oggi ho giocato con il maestro shop a tre mentina nera solo questo ha solo questa marca troia guarda mi fai quasi pena c'hai ragione ho appena speso 15.000 anime solo questo hai ragione mannaggia la puttana dai te ne compro altre 5 dai ah solo questo dai mi hai proprio rotto i coglioni per la madonna puttana muori brutta troia che mi hai proprio sfasciato il cazzo mi hai sfasciato solo questo va 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 eeeh wow pim pienazzi mamma e basta gli fanno di pure ste cose già sono triggerato gli fai pure di ste cose va bar bar vecchia di merda zio porco va prenda la pensione ritardata spastica allora ah moriamo per quest'uomo adesso vai vai finchè non mi parte uno nanno proprio le gesta di lui assurdo no raga non c'era il tempo materiale e ve lo posso assicurare che non c'era il tempo materiale per sentire quello che ho detto e giftare 5 sub non c'era non so vanini che problema ma dove stavi capo ah si ma fai domani ma non c'è credo ma giammo giammo non lo sbagliare vanini eh raga sono bloccato eh che succede e devo risponare io a me è successa la stessa prima il pazzo il pazzo quella è tipo la curva nascar si è tipo la curva nascar dove passi in mezzo a tutte le cose a tutte le le macchine il tocus ma chi è